Chelsea, Barcellona, Fica 21 Io sono il Barcellona Io sono il Barcellona Vediamo come si mette questa partita Sai che pronostico fai? In Chelsea In Chelsea, quanto? Anche di più Anche di più Anche di più Calcio d'angolo, non capire come fa per fare calcio d'angolo Vabbè Oh Chi l'ha tirata? C'è un successo C'è un successo C'è un successo C'è un successo La pedonera Mamma mia! Mamma mia! No! Ma! Mamma mia! Non stiamo messi per il campo Non stiamo messi per il campo Colcante! Con la finestrella tra genti Viva cantee! Viva cantee! Viva cantee! Viva cantee! A terra! Viva cantee! Viva cantee! Viva cantee! Can〈 Viva cantee! Montee! Viva cantee! V- il cantee! Viva cant supersor! Viva Mettere cantecchi Ma Cansabisha, non ho visto Ma come si cambia la squadra per far andare più avanti C'è una singola Non c'è un tasto Andare più avanti Anzi un po' di bravo molto offensivo ma va avanti avanti non è nessun offensivo ma è un po' un altro occhio al contravere qui con il friggio mamma mia verner signori è decollo è il 2 a 0 è il 2 a 0 è il 2 a 0 il 2 a 0 cos'è? non hai più parole? non c'è il sino c'è un po' di bravo mamma mia ma mamma mia le tattiche le tattiche le tattiche aaaaa uiii 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 tutti giù per terra questo è Messi c'è capo per lui no sicuro ho sbagliato io proprio ottimo i pressi qui recupero il gran pallone della metà a capo avversaria si ci sta ma cioè secondo me è un bottico ma però è sporadico non è un bottico si ma ti faccio vedere io un bel cosa no ti faccio vedere sporadico vedi mi lascio io un bel colasso un bel polpettino ti faccio un bel polpettino ti scarto tutta la squadra uuuu uuuu ti ho scartato tutta la squadra tutta la squadra ti ho scartato ma non mettiti nel gol tutta la squadra eh beh con il culo sono in basso si vabbè eh 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 si 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 stante stante ha fatto tutta la squadra tutta la squadra mamma mia con Werner tutta la squadra con Werner mamma mia non c'è se ti ho fatto un bel non c'è meglio col portiere no col portiere è l'ultima partiera è andata bene no è andata bene è andata bene ma che fai Messi ma che fai che fai ma che fai che fai ma quale è il problema ciò ti ha sempre no ed è andata lo stesso è andata è andata è andata è andata era il proprimento ha ha è andata signori, tiriamocela, ma che non ha... bravo, fallisci ma proprio lui l'ha tirata così? mamma mia, che bello signora bullo si è buttato a terra ahhhh ansi mi sembrava proprio kanté ATT devo mettere... aspetta, devo mettere kanté ATT dopo metto kanté ATT oh, dopo devo mettere kanté ATT no, oggi no kanté ATT devo mettere kanté ATT è il mio preferito kanté ATT è il mio preferito kanté ATT gollo gollo oh devo mettere kanté ATT devo mettere kanté ATT no, kanté ATT ok vai 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 kanté ATT guarda 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 vediamo cosa ci combina eh oh oh con questa palla e punta la porta bravo il portiere a dire di nome ahhh 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 a ahhh 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 non si può più qua poi non leggi neanche non è una tribuna non ma vai io qua la predilina cane gatto cante! 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 nooo io voglio riparare un po' con cante dove è cante? dove è cante? qui? è questo cante cante! 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 vabbè mamma mia che culo no no azzpigli 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 cante! azzpigli 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 un bambino azzpigli azzpigli signori 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 e qua si vince troppo forte ma perché il volto c'è guarda qua guarda qua guarda qui guarda qui guarda qui guarda qui ha inserito una rete sicura l'attaccante era già pronta a esultare eh ma che te la voglio fare guarda qua poi vedi come fare maniato stupo a lui chiedi guarda giù qua guarda giù qua no ma che ma che mamma mia si vabbè troppo forte per te non posso perdere guarda qua ti sto mangiando ti sto mangiando no ma poi gli tengo pure il giocatore non ci fanno più però non ci fanno più io li devo cambiare fai tu da qua ti scusi no no tanto segno lo stesso ma ma mamma amice e abu che fanno ragazzi ma non ci hanno fatto? ma non ci hanno fatto? ma? ma un'icchio oh! fuori! no! spazio per i giorni ma i mo c'hai un torrent vado a male come le carcelano? chiedi la deluce? ma togli sta roba eh poi che fatti? si fa qui ma che fai? e con quagraggio si fa tu qui che fai tu vai ricadere tu ma non sei fatto il giustico tu? ok che ti hai mangiato? e che ti hai mangiato? ma non ho fatto ma potevo tirare? no no tirare apposto perchè sono tu pa non valeva come non vale? e ho fatto sempre si chiama rispetto rispetto poi ci fai dalla mattina rispetto il trono non è la parola d'outtime ma niente l'arbitro con l'arbitro con l'arbitro con l'arbitro con l'arbitro con l'arbitro con l'arbitro non è la parola ok cantetti ieri ieri egono buongiorno no 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 non funziona non funziona non funziona non funziona guarda si 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 prima ha funzionato mamma mia oh non è pochino questi confezioni fallo sapeuta no i anna non lo nemmeno come si st questo non man AC il nuovo lavoro basta la il la messina se non ti faccio quelle coscire te ne faccio una maglia Non ti conviene Vai vai Monty dai Dai Monty Monty si può pure esce Lo si è allungato a posto Copoz Ter Stegen Dice di no Ter Stegen Nea buona Sì È tutto solo? Sì Ah no Ah no Ah no Eh allora E' quello che ha detto Carlo con un tocco sotto Ha mangiato a bocciarla in rete E ha deciso con la confusione Eh di potenza Eccomi i risultati che abbiamo visto tutti Regoltato ancora di parità Barcellona che sta provando Il pane ancora tanto più Oh ci ha fatto la fenda Oh ci ha fatto la fenda Un giochetto Ci ha fatto un giochetto ma sempre quattro e cinque questa è una bella giusta eh si si ma vi se il gioco sei discusa eh si ma ti metti il caic ah poi ok devo giocare devo giocare dimmelo dimmelo ah no con me che ho fatto dimmelo dimmelo non so giocare dimmelo dimmi si si no cos'è ok passava vorrei passare no vorrei passare aspetta aspetta bravo 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 nooo ok ovvero mi faccio sentire signori sub avanti che ca... no 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 non c'è io non capisco oh ti do ti dai divertire stavolta no no mamma mia si no 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 eh ma chiss ma perché ti fai così questo? anche lì che cosa ha chiesto? quando ti fai così con il culo del merda oh no non se non è culo di io con il culo no ma se non è culo di io si si è culo si è culo è culo è culo è culo questa si chiama bambina si e soprattutto di questa squadra che ha continuato a lottare nonostante l'inferiorità numerica da chi lo ha restato pronto sono tre in minuti di recupero recupera palla intercettando bene il pallone bene il suo passaggio solo noi provenientare 9 8 8 ovviamente madri nov Austria madre l'olio l'inglese che scr- il filo anche questo la vita da legge al libro bella partita peccato